di più di più di più di più di più voglio vincere tutti i tuoi pop it barbobio tutti 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 non penso che li vincerai rabbi perché vincerò io riuscirò a scambiare dei pop it incredibili vuoi vederli ok va bene allora vediamo un po se ti dicessi che oggi metto in palio la mia bellissima farfalla cosa ne dici ok io direi che accetto volentieri se ti piacerebbe io per la farfalla voglio di più ma proprio di più ma proprio di più ovvero tutti 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 i pop it che hai ok ti propongo una sfida rabbi cioè che sfida guarda che io ho messo in palio la mia farfalla che ne diresti questa volta di scambiare i nostri pop it ma al buio al buio sì diciamo di sì però io ho un po di paura di stare da sola al buio e soprattutto al buio siamo sicuri che vediamo proprio tutto quello che c'è sul tavolo perché sicuramente al buio funzionerà che io ti do la farfalla tu fingi di darmeli quasi tutti e invece non me li dai tutti se un pollo remi ma hai paura sei una codarda ok non sei una codarda allora che sia buio aspetta e vedrai spegniamo le luci eh così va bene dai io direi che è già abbastanza buio no 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 ancora più buio mia cara rabbi ah più buio di carino eh ho paura no 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 buio no totale però potresti utilizzare la lanterna ok si 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 accenniamo subito questa lanterna Ti servirà la lanterna Ok comunque torniamo Dove eravamo rimasti Allora io ho detto che scambio Questa farfallina Oh cos'è stato Amore Smettiti di prendermi in giro Perché altrimenti non ti darò neanche uno dei miei pop it Hai capito E devi mettere di più Ma lo sai che altrimenti sono altri menti I menti altri Non mi è piaciuta Vediamo Reby Per la farfalla Potrei mettere l'unicorno Il mio amato unicorno E dai visto che è grande Potrei aggiungere un cono Un gelato No un ghiacciolo No 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 Io direi però che voglio di più Dieni di mettere di più Perché la mia farfalla Vale di più Ma scusa Io ho due pop it E vorrei di più Bene Allora niente farfalla No 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 ok 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 Calma 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 Oh Oh Hai sentito? Cosa è stato? Hanno bussato Oh hanno bussato Chissà chi sarà Forse qualcuno che ti dice Di darmi più pop it Accendiamo la luce Ho un po' paura Reby Non accendiamo la luce Hai deciso di fare questo gioco E ora continua Ok va bene allora Quindi per il tuo pop it Io aggiungo un fantastico Quaderno da usare a scuola Di pop it Si potrei stare Però io sto per scambiare il pop it più grande che ho E più bello che ho Quindi voglio di più No basta 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 Io accendo No No basta Devi accettare Oh Molly Hai sentito? Ma sei stato tu? No no ti giuro È stato un fantasma che non hai sentito Cosa ha detto? Ha detto di accettare lo scambio Ma cosa? Perché la farfalla Ci sta per queste tre cose Ok? Non so che mi stai prendendo in giro Non ci casca E l'ha proprio Ok Ok Basta Chiudiamo questo scambio Perché sto iniziando ad avere paura Ok va bene Va bene Ok Ok Solo perché c'è paura Di stare fiammuto La mia farfalla Grazie Raby per la farfallina Guarda che L'ho scambiata solo perché volevo accendere le luci Perché io ho paura di stare qui al buio Quindi dovevo chiuncludere qualcosa Ok Raby Al buio sono molto generoso Guarda cosa ti scambio Il gufo I gufi vedono di notte poi Lo sapevi? È vero Ok quindi Cosa mi dai per il buffettino? Vediamo cosa offri Quindi io voglio di più Allora per quel gufo Visto che vede anche al buio E quindi Oh mamma Si è staccato un occhio Ma cosa sta funzionando? Ok Molly Chiudiamola qui Accettiamo di aver perso E accendiamo tutte le luci Va bene? Oh voglio accendere le luci Sicura? Sì voglio accendere le luci Facciamo l'ultimo scambio però Perché guarda Vuoi rifiutare il gufo quindi? No 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 Ok 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 Facciamo quest'ultimo scambio Allora non ce ne sono qui Cosa mi offri quindi? Allora per quel gufio ti offro Ti prego di accettare subito Quindi dovrei dare accetta Perché così riaccendiamo le luci Quindi ti offro la cucinella Ti offro La maglietta Ti offro il topolino E ti offro la rana Non scherzo No 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 La rana è troppo bellina Quindi gli occhietti Allora accetti Accetti No di più Voglio andare Non te la do la rana Perché la rana Mi sono accorta che la volevo io Devo cliccare sopra l'X No 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 Ok allora facciamo una cosa La rana non te la do Però potrei darti un'altra cosa E ti potrei dare una carota Oh allora so che Non lo so perché dai Il gufo è il gufo Sì però tu mi dai solo il gufo E io ti do 4 pop it Quindi direi che voglio un po' di più No 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 Dammi anche quella rana occhia No la rana occhia è mia Vero rana occhia che sei mia Sì sono tua Quindi questa rana occhia non si scambia Piuttosto o mi dai qualcosa di più O se no io rifiuto No 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 Ascolta Allora facciamo ok Che avevamo detto ok Per questo scambio Dai Non mi preghi Voglio farlo No dai Uffa Ok Reby vuoi giocare Visto che siamo al buio Potrebbe esserci un assassino Magari Among Us Ok aggiungo Among Us Ok quindi tu Scambieresti Il gufo Among Us Per questi 4 pop it Più la rana Più la rana Li vedi questi 4 pop it Più la rana No la rana è mia La rana è qui Quindi ti vanno a vedere questi 4 Io direi che è ora di accettare Basta ultima offerta Cioè guarda lì Hai solo 2 pop it Eh ho 2 pop it Eh io ne ho messi 4 Guarda ti aggiungo anche la coccinella 5 Qui devi solo accettare Ok accetto Va bene Ok Hai accettato troppo velocemente Vuol dire che hai già perso Oh no Oh senta l'occhio Ridabbi che è l'occhio della coccinella Eh l'occhio L'occhio l'abbiamo perso Ho preso questo Questo E anche questo La rana è mia però Tutto ok E il gufo Sì E Among Us è tuo Ah Io adesso potrò vedere al buio Quindi potrò fare scambi migliori Ah 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 Sei tu È il fantasma Riaccediamo le luci Lo so che sei tu Riaccediamo le luci Eh ci direi che è meglio accenderle Ok ragazzi per questo video è tutto Adesso gliela rebi e riaccenderemo le luci Sì perché in effetti fa un po' paura stare qui da soli al buio Mi raccomando se voi volete scambiare un po' pita al buio Fate molta attenzione ok Oh oh c'è qualcosa da sua testa Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.